Pronti? Pronti. Che facciamo? Prova il piattello oppure state... Puoi fare una prova del piattello? Prova il piattello. Un bull. Un mare. Pronti? 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 Un bel rizzo. Pronti? Uff! Pronti? Pronti? E' un bel rizzo. Pronti? Pronti? Oh Oh Secondo Oh 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 Ripete 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 Hai fatto tutte e due Capito? Oh A primo 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 A prima Primo! 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 Oh Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info la gara è nervosa si perspetta molto lunga